Esercizi di spazio Esercizi di spazio Esercizi di spazio Ora prendete il vostro complex Abbassate le spalle E continuate a fare pressione Aumentate l'intensità Di più Di più Gomiti alzati Continuate a fare pressione Sentite la contrazione Dei pettorali Alzate i gomiti E premete Durante la fase di recupero attivo Dovresti sentire delle vibrazioni Costanti Alzate i gomiti E premete Aumentate l'intensità Di più Di più Di più E rilassatevi E rilassatevi Alzate i gomiti Respirate in modo costante E premete Rilassatevi Rilassatevi Aumentate l'intensità Della fase di recupero Premete in modo costante Senza sosta Mantenete il ventre contratto Allungate il collo Aumentate ancora l'intensità Prendete il vostro Compex E aumentate Ancora Ancora Dai ancora Coraggio Rilassatevi Allungate la colonna vertebrale Posizione attiva Alzate i gomiti Continuate a premere Abbassate le spalle E premete in modo costante Ultima contrazione Tenete duro Ancora Bravi complimenti Ottimo lavoro Esercizio numero 2 Nella posizione seduta Attiva Allungate la colonna vertebrale Abbassate le spalle Tirate il ventre in dentro E allungate il collo Alzate le braccia Piegandole a 90 gradi I pollici rivolti indietro Prendete il vostro Compex E premete su Start Ora spingete con dei piccoli movimenti Indietro Durante la contrazione Spingete le braccia All'indietro Mantenete i gomiti All'altezza delle spalle E spingete In modo costante Allungate il collo Allungate la colonna vertebrale E spingete Nuca allungate Guardate dritto Davanti a voi Rilassate Prendete il vostro Compex E aumentate l'intensità Fino al massimo Sopportabile Continuate a premere Ancora Ancora E rilassatevi Riprendiamo la posizione A 90 gradi Con i gomiti Allungando La colonna vertebrale Mantenete sempre Gli addominali sotto tensione Dai Coraggio Riprendete la posizione Adesso Allungando Le braccia Stessa cosa Spingete All'indietro Allungando Il collo Aprite Aprite le braccia Tirate la pancia dentro E continuate a spingere All'indietro Aumentate l'intensità Prendete il vostro Compex E aumentate Ancora 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 E rilassatevi Aprite le braccia Guardate davanti a voi Allungando Il collo E respirando In modo Regolare Aprite le braccia Tirate la pancia Tirate la pancia dentro E continuate a spingere All'indietro Tenete duro Dai ancora Spingete Bravi Ottimo lavoro Esercizio numero 3 In posizione Supina Le ginocchia Piegate E i piedi Poggiati a terra Alzate le braccia Al di sopra Del petto Mantenendo Una leggera Fressione Dei gomiti Aprite E chiudete Le braccia Espirate Alla chiusura Ispirate All'apertura Ora prendete Il vostro Compex E aumentate L'intensità Fino al massimo Sopportabile Allungate Le braccia Aumentate L'intensità Del recupero Attivo Allungate Aprite E chiudete In modo dinamico E espirate Abbassate le spalle Allungate Allungate il collo Tirate la pancia Dentro E mantenetela Leggermente Contratta Durante L'esercizio E espirate Ispira E espira Aumentiamo L'intensità Prendete Il vostro Compex E aumentate Ancora 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 Fino al massimo Sopportabile E riprendiamo L'esercizio Chiudete Chiudete Le braccia Aprite E espirate Sentite La contrazione Dei pettorali Aumentate L'intensità Della fase Di recupero E espirate Ancora Coraggio L'esercizio Dai ancora Dai ancora E espira E rilassatevi Coraggio Riprendiamo l'esercizio Sentite la contrazione Dei pettorali Dai il massimo Ancora Per aumentare L'intensità Dell'esercizio Potete utilizzare Dei pesi Riprendiamo Apri Chiudi Ispira E espira Rilassatevi Allungate il collo Abbassate le spalle Espirate Espirate E rilassatevi Dai tenete duro Continuate Aprite Chiudete Bravi Esercizio numero 4 Mettetevi In posizione Prona Con le braccia Divaricate Oltre la larghezza Delle spalle Piegate i gomiti Inspirate Durante la flessione E espirate Durante l'estensione Sedetevi sulle ginocchia Per rilassarvi Prendete il vostro Compex E premete Su Start Flessione E estensione Sedetevi sulle ginocchia Rilassatevi E riprendete La posizione Prona Allungate il collo Abbassate le spalle Rilasciate Divaricate le mani E spingete Espirando Contraete Leggermente I glutei Mantenendo Un allineamento Corretto Della colonna vertebrale Espirate Durante l'estensione Rilassatevi Prendete il vostro Compex E aumentate L'intensità Fino al massimo Sopportabile Ancora 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 E rilassatevi Riprendete la posizione Piegate Piegate E allungate Espirate Ogni volta Rilassatevi Durante la successiva fase Di contrazione Mantenete una posizione statica E rilassatevi E rilassatevi Restate in posizione Non muovetevi Resistete Bravi E rilassatevi E rilassatevi Riprendete la posizione Non muovetevi Abbassate le spalle Allungate il collo E rilassatevi E rilassatevi Continuate a respirare Contraete gli addominali Ancora E rilassatevi Ora aumentate La velocità Espira Ancora Allunga Bravi Riprendiamo le flessioni Ancora aumenta La velocità Coraggio Tenete duro Ancora alcune flessioni Bravi Prendete il Compex E aumentate l'intensità Fino al massimo Sopportabile Ancora Ancora Mantenete la posizione statica E rilassatevi Rilassate Riprendete la posizione Tranquillamente Espirate E allungate le braccia Sedetevi sulle ginocchia Rilassatevi un po' Coraggio Riprendiamo Espira Allunga la colonna vertebrale Bravi Bravi Dai coraggio Piega Allunga Mantieni la contrazione addominale Rilassatevi A Buda La polonna vertebrale Rilassatevi 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 Triana